salve raga eravamo arrivati qua che eravamo bell'angela ieri sono pure io lo spettro posso volare danni spettrali pure posso fare quindi anche da dietro iuri c'è ragazzo è una cosa bellissima e al tappo ottimo quella fa danni da terra quindi non ci interessa non ecco questo lo può servire se troviamo qualche qualche cosa importante c'è tipo ecco tipo questa qua non lo spieghiamo chiavi ok ok il cubo maciclo può far cambiare tutto troviamo adesso sono cambiati ultimi potenziamenti tutto quello che ho ecco ecco non sono neanche più volante però come ti attacco al massimo lontananza bo prima non ha fatto ma ah e sono tanto ottimo ciò vuol dire che non spreco bomba per passare attraverso la cosa è questo mi posso andare anche a belle costine questo questo sono attacchi proprio che uscire il lo 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 perché tutti questi qua queste ficherie trovasse che qualcosa per comprare altre cose male non sarebbe male non sarebbe eh no eh no eh no eh no eh no eh no lo faccio perché lo sapete a volte le rocce nascondono cose e visto che non spreco bombe ora per farlo è come se avessi preso il termine rotto per lo meno per me a questo valore nada meno male che non è stato fatto nulla non so perché mi stia allaccando anche perché può essere la ventola è molto soddisfatta la parte l'aspetto un po' te mi 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 non mi brucia.it anche perché la questa acqua dorato in questo livello che però sinceramente al momento non c'è stato spero solo che mi sbaglierò e magari troviamo qualche cosa che è momento perché no ragazzi è nulla perché io non trovo altro diarrea esplosiva quello però me lo voglio conservare per il boss diarrea esplosiva perché fidatevi, servira cioè satan che è il boss finale perlomeno l'altra volta perché avevo solo due cuore è stato molto ma molto difficile e mi ha fatto sudare ecco voglio dire che quest'altro qua mi sta facendo anche legge eh no devi schiattare però eh sono stato fesse io sì però io lo stesso vado a prendermi i cuori fa cura mezzo a qua il dato se non erro si può fare di nuovo però no non mi conviene perché sta porta sto andando più che bene questo è quasi il boss finale vedo solo se mi da qualcosa è buono nei primi tre tiri 1 ok chiave può sempre servire siccome ho un'altra monetina programma e arte 2 servono chiavi arte down colchenza però questo siccome è quasi l'ultimo livello tale dove oh no 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 quanto odio questo boss vi giuro non mi pare di immaginare quanto è odioso che panno ne ho un boss mai non si è ancora più dissi il semplice fatto che non è un boss lo stesso compimento di pari a se mangia la bomba questa pratica è fesso maggior. ma che ha preso una espressione nel mondo non laia sto distruggendo la vita io non trovo nulla da comprare la 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 mi stanno distruggendo la vita aia la cacca radioattiva come il fesso non sapevo aspettare un secondo faccio sempre questo error infatti sta piangendo non si facendo un po' perché proprio così avesse fanno così tanto va aspettiamo vai al giro tutto tutto fu lì alto quello neanche ma è al tappo 3 3 fuliat aspetta ancora un po per me porta non posso segreto questo caso non sa va nulla a non aspetta il mezzo cuore serve avete visto cosa sa come mezzo cuore st ok non mi ha fatto male però magari se ci fosse una camera per fare acquisti stai chiedendo sacrificare la vita ok per avere ok soldi il cuore del denaro denaro dp 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 praticamente sono tutti buoni la cosa che stiamo prendendo magari prende anche gli altri cuori il 69 avesa un trovo una camera per far acquisti spenderò alla slot se questo poste quasi tutto dico è quasi perché ultimo ok sti è spendo questi con cacchia mamma sti 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 la gallina sti con questa è la 55 sti 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 Ottimo! Adesso sto spiegando i casi inutilmente Ok Ok stop, mi sono dilungato anche troppo Ok giuro giuro all'ultimo Ciao Adesso andiamo a prendere il pignoletto Che stava, ecco proprio davanti al boss E quindi il penultimo livello Ragazzi stiamo andando dal boss Ci vediamo alla prossima